Ok, ancora Federico, nella parte italiana, stavamo dicendo che selezioni molto bene le onde e poi ti ho chiesto su che cosa ti stai allenando. Sì, allora, ultimamente stavo cercando di riprendere bene un po' gli aerial, diciamo a fine sezione soprattutto, per magari chiudere l'onda. In generale, per la Lua mi piacerebbe riuscire a mettere un paio di turn su ogni onda e poi magari chiudere con un top turn aerial oppure un aerial normale. Cose semplici, semplici, cercando di farle bene, un deep bottom turn e andare a colpire aggressivo, poi vedremo. Bella velocità, visto che c'hai, una bella velocità. Eh sì, cerchiamo, quello è il mio obiettivo, quello che posso permettermi di fare al momento. Ok, va bene, no, Fede, niente, allora in bocca al lupo per il campo. Grazie mille, grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.